ci sono delle espressioni che entrano quasi subito nel linguaggio comune poi iniziano a diffondersi una di queste è la società signorile di massa dall'ultimo recente libro di luca ricolfi docente di analisi dei dati a torino e direttore scientifico della fondazione yum lo abbiamo qui proprio per parlare di questo libro che sta andando anche molto bene in tutta italia ecco la prima domanda è cosa intende per la società signorile di massa e a cosa si contrappone ma io do una definizione statistica abbastanza precisa tra l'altro qui siamo in un dipartimento di statistica mi fa piacere partire dalla definizione statistica la definizione statistica è questa parliamo di una società signorile di massa quando nella popolazione nativa prima condizione il numero di persone che non lavorano eccede il numero di persone che lavorano cioè per quelli che lavorano sono una minoranza in secondo luogo la società è opulenta e l'accesso al surplus prodotto dal sistema economico avviene da parte di una maggioranza di non lavoratori di persone che non contribuisce alla formazione del surplus terza importantissima condizione questa situazione che parebbe molto gradevole positiva si accompagna a una stagnazione dell'economia cioè l'economia non cresce più queste sono le tre condizioni lei parla di ma più riprese di consumo pulento ma che che senso lo intende spesso leggendo i giornali si leggono anche storie di povertà di sfruttamento anche di giovani laureati dunque c'è una parte del libro che è dedicata proprio a questo io ho dedicato un pezzo abbastanza lungo e documentato dal punto di vista statistico alla cosiddetta infrastruttura paraschiavistica di questa società infrastruttura che è costituita soprattutto da immigrati ma anche da italiani io stimo che gli immigrati siano circa il 60 per cento della infrastruttura paraschiavistica il 40 per cento sono italiani questo segmento è di 3 milioni e mezzo di occupati e quindi è un segmento abbastanza consistente poi ci sono uno strato della popolazione che non se la passa particolarmente bene che sono al di sopra della soglia di povertà ma non tanto al di sopra però il complesso di questi due strati l'infrastruttura paraschiavistica e diciamo così i colori sono in condizione di povertà relativa arrivano al 25 30 35 per cento della popolazione a seconda di come definiamo la soglia resta il fatto che la maggioranza della popolazione nativa sto parlando degli italiani accede a consumi che nella letteratura vengono considerati opulenti giusto per darvi un'idea stiamo parlando di del fatto che il reddito medio e quindi il consumo è circa quattro volte il livello di sussistenza questo significa avere dei consumi opulenti o cospicui come si diceva una volta di questi consumi fanno parte tantissime voci perché ci sono alcuni aspetti che servono soltanto la definizione statistica cioè il possesso di automobile il possesso di casa le vacanze lunghe ma al di là di queste condizioni di relativo benessere c'è la pletora enorme di consumi superflui per farvi un esempio che è anche la cosa che ha più mi ha colpito noi spendiamo per il gioco d'azzardo circa 110 miliardi di euro l'anno soltanto del gioco legale perché poi bisogna aggiungere il gioco illegale che alcuni dicono essere dello stesso ordine di grandezza altri quantificano in qualche decina di miliardi ma ammettiamo di considerare solo il gioco d'azzardo che chiaramente un consumo superfluo ebbene quanto spendono le famiglie italiane per il gioco d'azzardo tanto quanto spende lo stato italiano per pagare interamente la sanità pubblica è lo stesso ordine di grandezza voi capite che dipingere un quadro vittimistico della condizione di un paese nel suo insieme quando abbiamo questo lusso che c'è solo in italia perché non c'è nessun altro paese nel mondo in cui il gioco d'azzardo è così diffuso e allora è un po' audace la descrizione in chiave vittimistica della condizione del paese quindi questo non cancella il fatto che sono gli strati bassi però c'è questa larga maggioranza benestante ma basta per esempio il possesso di un cellulare uscire il sabato sera per essere accedere in questa categoria diciamo di consumatori opulenti no perché normalmente questi esempi che le infatti il possesso del cellulare che è diffusissimo uscire la sera si associano a tantissimi altri consumi non sono mai da soli però non c'è una definizione a livello individuale e quando il sistema sociale si permette decine di consumi voluttuari non necessari che parliamo di condizione signorile di massa condizione signorile perché ricordo la condizione del signore è tipicamente quella di chi accede al surplus senza lavorare io ho dovuto però mettere la qualificazione di massa perché noi siamo abituati a pensare che i signori siano una minoranza nelle società feudali poteva essere 3 4 5 per cento della popolazione erano i guerrieri i nobili il clero i cortigiani sostanzialmente oggi invece l'accesso al surplus prodotto da questa minoranza di produttori è diventato di massa una situazione che si accompagna alla stagnazione economica lei ha studiato in altri libri il problema della produttività ecco lei sembra puntare il dito soprattutto sulla scuola parla di una distruzione della scuola come uno dei pilastri su cui si reggerebbe originerebbe la situazione attuale e non le pare di essere stato un po severo con quello che è il nostro sistema educativo sì penso di essere stato severo non ho difficoltà ad ammetterlo ma se uno ha un altro concetto di quella che dovrebbe essere una buona istruzione è inevitabilmente costretto a emettere un giudizio severo però attenzione io non imputo alla scuola il problema economico di fondo del paese che non è il ristagno della crescita ma è il ristagno della produttività cioè noi abbiamo la produttività che ferma da 20 anni succede solo in italia non c'è nessun altro paese in cui la produttività del lavoro è stata ferma per 20 anni questo non dipende solo dalla scuola io metto la scuola tra i pilastri della società signorile poi se vuole approfondiamo questo punto ma se il punto di cui vogliamo parlare è il ristagno economico è il ristagno della produttività quindi il fatto che il prodotto per ora lavorata non cresce e il pil non cresce allora qui io individuo molti fattori anche in base ai miei studi precedenti però quello su cui io punto di più non è certo la distruzione della scuola ma è semmai l'eccesso di legislazione cioè noi abbiamo una capacità del cetto politico di impedire l'attività economica che non ha eguali in nessun paese avanzato e questa capacità di impedire l'azione economica attraverso la iper legislazione si è enormemente accresciuta negli ultimi 25 30 anni attraverso vari meccanismi il primo meccanismo è stato l'ingresso in europa o meglio la sottoscrizione dei patti di maastricht che ci ha costretti sempre di più a recepire una legislazione comunitaria che noi traduciamo nel modo peggiore possibile perché quando c'è una direttiva comunità comunitaria noi dobbiamo implementarla nel nostro sistema il modo in cui la classe politica italiana implementa le direttive comunitarie è sciagurato è il peggiore possibile perché ciò che si può implementare in modo semplice viene implementato in modo complicato questo è un primo fattore che è scattato all'inizio degli anni 90 poi ci sono state delle scelte che col senno di poi io considero sciagurate legate al federalismo cioè noi abbiamo iniziato il decentramento amministrativo nel 97 se ricordo bene quei decreti bassanini poi c'è stata la riforma del titolo quinto della costituzione che ha creato quel mostro che la legislazione concorrente per cui di una stessa questione si occupano lo stato e le regioni senza che ci sia un dominus della situazione poi c'è stata la riforma abortita la cosiddetta devolution la legge 42 ora tutti questi processi che in linea di principio io stesso sostenevo io sono stato un federalista ho scritto un libro di tipo pro federalismo però sono stati implementati in modo tale da non funzionare e anche l'ultimo quello della lega era costruito per non funzionare non solo quello del centro sinistra quindi c'era un'idea buona che era di responsabilizzare la classe politica locale di rendere i territori più autonomi economicamente eccetera ma questa idea che era buona è stata implementata aumentando i costi e i conflitti di competenza allungando i processi amministrativi pensate quante autorizzazioni ci vogliono anche solo per affittare un locale per aprire un'attività noi siamo indietrissimo nella graduatorio internazionale del fare imprese la cosiddetta doing business è una graduatoria che fa la banca mondiale e l'italia precipita ha delle posizioni sempre peggiori quindi la condizione degli imprenditori è eroica in questo paese perché aver voglia se sei giovane di non emigrare e se sei un adulto di installare un'attività economica in italia è eroica non è una cosa particolarmente razionale se il problema è il nostro sistema di istruzione e formazione com'è possibile che dei nostri laureati trovino lavoro all'estero anche in posizioni prestigiose quando non si dà assolutamente il caso contrario ovvero che dei laureati brillanti all'estero vengono in italia a lavorare non è forse un problema del sistema produttivo che si è concentrato soprattutto sulla produzione noi siamo un paese manifatturiero è noto questo ma questo è sufficiente per le sfide di oggi guardi ci sono varie spiegazioni del problema che lei giustamente pone una prima spiegazione che i nostri laureati che vanno all'estero sono molto autoselezionati cioè sono ceti alti con una notevole propensione al rischio ma la vera spiegazione del nostro del talento dei nostri giovani è un'altra ed è questa secondo me che soprattutto la scuola non ha affatto abbassato la qualità dei programmi cioè la scuola di oggi in italia è un'ottima scuola tra l'altro ci sono ancora le lezioni frontali in molte in molte scuole i programmi sono quelli di 30 40 50 anni fa qualche volta arricchiti si arriva magari a fare le derivate gli integrali nel liceo classico quindi la nostra scuola in realtà ha degli standard molto più alti di della maggior parte delle scuole occidentali come raccontano i ragazzi quando vanno durante il liceo per un anno all'estero e tornano dicendo ma questi studiano molto meno di noi qual è il problema il problema è solo questo che la scuola e l'università pur fornendo un'istruzione di alto livello consentono i studenti di non studiare ora perché rilasciano il titolo anche se a questo titolo non corrisponde un'effettiva capacità acquisizione di capacità e di conoscenze quindi cosa capita che c'è sempre una minoranza che studia e dato che questa minoranza che studia che possiamo pensare sia il 20 per cento della popolazione studentesca come ordine di grandezza dato che questa minoranza che studia viene esposta a un ottimo tipo di istruzione che sono buoni programmi buoni professori eccetera appena va all'estero mette a frutto la qualità della scuola italiana tra l'altro avendo anche un vantaggio che sembrava uno svantaggio in origine cioè il nostro taglio teorico perché all'estero l'insegnamento è molto più pratico ma se tu hai una buona formazione teorica sei superiore ai giovani di altri paesi dal punto di vista della formazione teorica quello che ti manca è quella pratica ma quella pratica si acquisisce abbastanza facilmente per cui appena i giovani vanno all'estero acquisiscono quello che gli manca lo acquisiscono sul campo ma hanno questo vantaggio iniziale che gli dà la scuola italiana quindi il problema è molto semplice studiano soltanto il 20 per cento degli studenti e quindi l'80 per cento dei problemi quanto può durare una società in cui si consuma senza produrre in maniera sufficiente se non si fa nulla e io ritengo estremamente probabile che non si faccia nulla questa situazione può durare diciamo qualche anno perché il nostro pil continuerà a fluttuare per qualche anno poi comincerà a decrescere leggermente magari di uno 0,5 di un 1 per cento all'anno quindi grosso modo io penso che per una decina di anni quindi il quadro non cambierà drasticamente a meno che sia una crisi finanziaria che ci butta in una situazione tipo greco è un fenomeno che io chiamo argentinizzazione lenta noi come l'argentina andiamo verso il default ma ci andiamo abbastanza lentamente da non accorgecene quindi io tendo a pensare che 5-10 anni la situazione non cambierà tanto ma poi fra 20 ci accorgeremo o meglio vi accorgerete perché io non ci sarò più diciamo non è detto che io ci sia ancora avendo già raggiunto la quasi 70 anni voi fra 20 anni fra 25 anni dei problemi li avrete se nulla facciamo riconoscere la realtà e ascoltare delle voci critiche è uno dei presupposti per reagire e noi abbiamo letto con profitto e consigliamo il libro di Luca Ricolfi la società signorile di massa appena edito dalla nave di Teseo